buongiorno ragazzi buongiorno ragazzi io pensavo alla partita di ieri l'ho anche rivista perché perché non avevo sonno non ho capito anche perché luciano che ripeto ti dovresti rimettere luciano ma dopo approfondiamo questa cosa e ti dico anche perché secondo me ti dovresti rimettere e lo dice uno a cui sei sempre stato simpatico perché a molti interessi non sei mai stato simpatico faccio un esempio caro luciano su cose e temi segni perché io non ho capito perché hai fatto giocare mancini ieri ha fatto acqua da tutte le parti io non ce l'ho con il ragazzo senza nulla togliere alla professionalità del ragazzo come dici tu perché poi dopo bisogna andare a cogliere eh luciano allora il difesa te hai hai tenuto in panchina il miglior centrale difensivo a tre del campionato italiano che è buongiorno che novanta su cento ormai purtroppo andrà a Napoli perché si parla di trentacinque milioni più otgard e quindi otgard ha valutato otto milioni parliamo di un'operazione che supera i quaranta milioni si avvicina ai quarantacinque milioni non è fattibile per noi questa operazione attualmente ma il difensore posizionale luciano quello forte me lo insegni te cosa fa cosa che non fa né mancini e né eh eh l'ha fatto un po' calafiori ma non come lo fa a cerbi e come lo fa buongiorno cosa fa un difensore forte centrale con posizionamento cosa fa luciano dimmelo che lo sai meglio di di me quando è nell'uno contro uno si impiantano con le gambe in terra praticamente si cementano in terra fanno forza con le gambe e stanno giù in terra quindi e quando hanno l'attaccante davanti che li vuole saltare fanno dei saltellini all'indietro guardano dritto guardano palla e attaccante si impiantano con le terre con i piedi in terra e fanno dei saltellini all'indietro fateci caso ragazzi perché è una cosa che potete vedere tranquillamente anche voi senza stare a fare professore di calcio perché io non sono un professore io non sono nemmeno uno youtuber io sono un tifoso come voi quindi il difensore centrale forte che ha posizionamento tipo buongiorno a scelpi perché è anche un po' calafiori cosa fa quando c'è l'attaccante davanti e lo vuole saltare si impianta con le gambe in terra fa forza con le gambe va indietro con i saltellini guardando palla non solo palla e non solo uomo guardando sia palla che uomo palla e uomo il movimento delle gambe questo fa un difensore centrale con posizionamento al primo poi tentativo di dribbling dell'attaccante cosa fa un difensore centrale forte con posizionamento e con testa al primo tentativo appena vede l'attaccante lo vuole saltare stende la gamba cosa fa il difensore centrale prende cosa doveva fare ieri mancini sul gol cosa fa più tentativo estende la gamba e capito allungando facendo un movimento anche ho capito fa una semi rotazione con la spalla e stendono la gamba per bloccarlo questi movimenti qui luciano io non l'ho mai visti e questi movimenti qui te avevi in panchina uno che li sa fare come acerbi perché lo stesso acerbi ha definito buongiorno il suo erede e ragazzi non perché soliterista ma acerbi è il miglior centrale del campionato italiano te luciano hai tenuto buongiorno in panchina tutto l'europeo ed è l'unico che fa questi movimenti ti ho detto io è l'unico è l'unico è l'unico che sbrana l'uomo perché lì ma cosa c'entra mancini ma poi vedi luciano è un discorso che te non riesci a gestire le sconfitte perché te non riesci a gestire le sconfitte hai dato la colpa al blocco inter perché dici ci sono allenati male perché hanno vinto il campionato a marzo ovviamente non dici che hai fatto care te luciano non dici che hai cambiato modulo tre volte non dici che metti i giocatori fuori ruolo non dici che su 26 giocatori ce n'hai 18 che giocano a tre e hai giocato a quattro due volte caro luciano non dici che c'è stata una preparazione atletica vergognosa caro luciano e questo dovevi te te devi fare come fa gravina ora che sembra si dimetta te prendi luciano e ti dimetti ma io ragazzi se vi ricordate nel video prima della partita con l'albania mi fu chiesto gli spalletti spalletti io dissi è un allenatore è fermo dieci anni fa a livello tattico e per fare bene ha bisogno di determinati giocatori in determinati ruoli a napoli aveva quale a schelia aveva osimen e anguissà centro campo e qui non ce l'avevi i giocatori luciano e proprio lì devi sopperire a livello tattico cosa che ormai non sei più in grado di fare ai 65 anni ho mai detto ieri ma sei rimasto praticamente a quando non avevi 55 non è tutta colpa comunque della federazione tra l'altro c'era un bellissimo progetto di roberto baggio e figici che è stato fatto fuori dove addirittura diceva aumentare il rapporto con la palla nei giovani italiani chiedere più nevi vai ed è quello che manca ma anche il rapporto con la palla anche perché ragazzi ormai i ragazzini sono rincoglioniti tutti con questi social con questi playstation non escono più sono rinchiusi in casa soprattutto quando fa caldo mentre prima si giocava per strada imparavi a controllare la palla magari nell'asfalto spaccata nel brecciolino oggi purtroppo non ci sono più queste cose qua oggi si guarda molto più all'atleta che al calciatore ma senza tecnica senza voglia senza condizione non vai da nessuna parte da nessuna parte perché concludo il video ragazzi dicendo cose scontate ma il calcio è una cosa molto il calcio il giochino semplice semplicissimo ma se non corri se hai poca tecnica e soprattutto se hai paura di perdere come ieri sera perché ieri avevano paura anche di perdere non vai da nessuna parte quindi luciano io ha anche il post partita perché come l'hai gestito a livello di immagine non sei bello da vedere bello nei modi in cui hai di parlare davanti ai giornalisti cioè non c'è una bellissima tenuta dove io sono stato fai un vino eccezionale luciano hai 65 anni hai guadagnato hai avuto anche dei buoni successi non hai vinto 50.000 titoli ma comunque sei stato un buon allenatore non sciupare tutto perché vuoi perseverare fai una cosa dimettiti e fai spazio a qualche di un altro parte ovviamente va rifondato un po tutto è non va cambiato solo allenatore va rifondato un po tutto nel 2017 concludo il video dicendo andate a controllare perché me l'hanno segnalato e mi hanno chiesto di rimarcarlo lo faccio volentieri ragazzi il piano segreto di roberto baggio per rilanciare la figici baggio aveva un piano per rilanciare il calcio italiano ma poi dopo non fu fatto lavorare i furono messi i bastoni tra le ruote e lui poi dopo se ne andò non mi è stato permesso di lavorare disse baggio il mio programma di 900 pagine è rimasto lettera morta non amo occupare le poltrone come fa qualche un altro che aiuta la juve un database multimediale strutture sportive adeguate e soprattutto migliorare il rapporto con la palla perché se non hai rapporto con la palla dove vai un po' come con le donne se non ci stauri un rapporto con le donne dove vuoi andare ogni giorno inizio ciao inter